Chi come me attraversava la linea dei vent'anni, diciamo, ed entrava in una fase più matura, ma soprattutto nel senso di più lavorativa, di più legata ad attività professionali, al di là della laurea, ma al di qua delle responsabilità che sarebbero avvenute dopo, il mondo americano si capisce soprattutto, pensando dal punto di vista di un giovane italiano che ha vissuto la guerra da bambino, che ha visto il fascismo da giovanissimo e che si è reso conto dell'orrore della mancanza di libertà e si trova di fronte alla promessa di un paese che non pone limiti alla libertà. L'arte americana e il rapporto che ha subito stabilito con quella italiana in quegli anni ha cambiato talmente le cose che va ricordata non come una nostalgia, ma come l'esperienza di un grande fatto. C'è un'Italia che viene prima e nella quale c'è un brulicare di nuova attenzione, di nuova attività, di nuova creatività, di scoperta e di indicazioni di nuove strade, di nuovi percorsi. Direi che per una persona giovane di quegli anni il primo contatto di stupore e di entusiasmo è stato prima ancora che per l'arte e per il design. Questo fatto che l'Italia fosse il luogo in cui ogni cosa disegnata finiva in un museo, in tempo reale, dava una sorta, anche a coloro che non partecipavano al mondo del design e del concepimento delle forme, dava una sorta di orgoglio. Certo, le certe cose belle nascevano soltanto in Italia o prima di tutto in Italia. Si è formato come un corteo di nuovi artisti in cui Schifano in questa fase, poi Schifano e Tano Festa e poi Tano Festa in un'altra fase, hanno rappresentato l'Italia a un livello che veniva riconosciuto dagli artisti americani come non discutibile, come certamente accettabile tra loro. Quindi non ha mai dato luogo ad un tipo di contrasto e di gelosia oppure all'idea che ci fossero confini. Lo Schengen dell'arte è sempre esistito in quel periodo e a proposito di questo rapporto fra le due arti giovani, fra le due arti nuove, le due pop art, quella europea italiana e quella americana. Esisteva una cultura pittorica italiana, una scuola pittorica italiana, una pop art italiana perfettamente all'altezza e assolutamente assimilabile, non per imitazione, ma per estensione o per variazione di temi, per esempio l'antichità a carico di Tano Festa, per esempio la tradizione pittorica italiana e francese a carico di Schifano faceva apparire l'esistenza di una pop art che non era imitazione ma che era in qualche modo gemellaggio. Questo per la cultura. Quando Mario Schifano è venuto a New York era già un amico, era già un giovanissimo e straordinario pittore per il quale avevo già scritto, devo dire due cose precedevano a Schifano, una scritta da me e una scritta da Moravia. Mario Schifano è diventato subito protagonista. Lui disegnava moltissimo seduto per terra a quel tempo su Fogli Bianchi, alcuni dei quadri che sono notissimi adesso, una ventina almeno glielo ho visti fare tutti insieme sul pavimento della casa di John O'Hara, del poeta John O'Hara, che era già diventato un suo caro amico come se si fossero conosciuti da un decennio e non da una settimana. Glielo ho visti fare sul pavimento della casa di John O'Hara e sono dieci fra i disegni più belli ma anche più anticipatori di ciò che sarà negli anni l'arte e la presenza artistica di Mario Schifano. Questa sua gioia di farlo e di dartelo, a me è capitato con tre disegni di seguito di questo tipo e la sua gioia di farli e di darteli, era una sorta di gioco che non aveva niente a che fare con la celebrazione di se stesso, come ho visto fare e accadere con altri artisti, ma aveva invece a che fare e con un straordinario talento del gioco e con una straordinaria istintiva cultura dell'amicizia. La storia da raccontare è la storia che ho appena cercato di tratteggiare, cioè la storia di un'amicizia, di un'amicizia molto viva, molto profonda, molto allegra, molto giovane, fondata sulla creatività, per cui si trattava continuamente di sapere che cosa stava facendo e come il segno stava, se e come stava cambiando. Il quadro Le quattro stagioni mi è stato donato nel suo studio in una visita a Roma prendendo un rotolo di carta bianca arrotolata, facendomelo vedere per un istante e mettendomelo in mano, come lui spesso faceva, dicendo prendilo, ti piacerà, ma lo devi mettere tutto, lo devi distendere tutto e lasciare che la carta, che era cartone, cartoncino, prenda la piega giusta, cioè si appiattisca, quindi fissolo al muro in modo che si appiattisca, solamente io l'ho incorniciato subito e l'ho tenuto con grande affetto perché c'erano due elementi che in quel momento lo tormentavano molto, uno era il marchio di fabbrica del passato, cioè la sua quercia, e l'altro era invece lo sbobinarsi di quella che l'agente di cinema chiama la pizza, cioè al tempo in cui esisteva la pellicola in cui il cinema non era elettronico, la pellicola di celluloide è rotolata e che si stava srotolando in quell'immagine dando notizie e testimonianze dell'altra attività appassionata di Schifano in quegli anni che era il cinema, che era filmare, che era documentare attraverso la macchina da presa, una sorta di vendetta sull'egemonia della televisione che così tanto aveva contato nel suo mondo espressivo e nel suo mondo immaginario, vedendola sempre come la produzione originale dell'immagine e non come la trasmissione a distanza di cose, a distanza e automatica di cose che accadevano comunque, erano cose che accadevano perché lui le dipingeva e le faceva accadere. Il titolo di questo rotolone di carta bianca che poi è diventato un quadro che mi ha fatto compagnia per decenni nella vita era Le quattro stagioni e contiene anche una dedica che è stata evidentemente fatta e poi cancellata perché tutto ciò avveniva prima del momento in cui lui l'ha scoperta nel suo studio e me l'ha offerta come dono, affettuoso e di ricambiare la visita che io avevo fatto tra un aereo e l'altro venendo da New York che è ripartendo per New York e questa sorta di mistero non l'abbiamo mai chiarito. Io non gli ho mai chiesto a chi avrebbe dovuto essere dedicato quel quadro e lui non mi ha mai detto o non ne abbiamo mai parlato e come dire, mentre non solo io non mi sono mai dimenticato nel quadro ma l'ho tenuto molto caro per tutti questi anni, lui se ne è probabilmente dimenticato dal punto di vista di quel dettaglio della dedica tenuta in sospeso perché fatta, cancellata e poi lasciata in bianco. Diciamo che è come un racconto in cui manca un personaggio ma quando un personaggio manca in un racconto abbiamo un thriller e quando manca da un quadro abbiamo non un'imperfezione del quadro ma un carattere, una caratteristica memorabile del quadro. Alcune delle cose che adesso in questo momento partecipano a questa esibizione e offerta nascono da questo stare molto in comune, da questo stare molto insieme in un mondo in cui creare era il gesto naturale, quindi sono quadri dati, sono immagini immagini date. Il mio modo di ricambiare era di scrivere e questo è durato è durato a lungo in moltissime occasioni. A quel tempo scrivevo prima per il giorno poi per la stampa, per il giornale Il Mondo, per l'Espresso, quando è nato per Panorama, con un'attività anche sulle riviste culturali come tempo presente, come nuovi argomenti, come Il Caffè, in cui ho scritto un intero racconto che si intitolava Alle Mostre di Jasper Jones e racconto l'andare insieme con Schifano e Jasper Jones alla prima mostra dedicata totalmente a Jasper Jones, quindi è un evento estremamente emozionante anche per lui, perché noi vivevamo con pittori che sarebbero stati grandissimi ma intanto erano giovani e immensamente felici per il fatto che una galleria o un museo si interessassero di loro. Siamo all'inizio dell'inizio di una lunga splendida storia. Il caso di Tano Festa era il caso di una generosità affettuosa e grandissima. Di nuovo il caso è quello di un riconoscimento e dell'avere scritto per un primo piccolo catalogo di Tano Festa in una piccola galleria con grande entusiasmo perché mi piaceva molto questa trovata originalissima di Tano Festa di sapere che viveva a Roma e che quindi era circondato da pezzi di Roma da pezzi di vita antica da reperti che si che si onorano dal punto di vista archeologico ma che si guardano ben poco dal punto di vista dell'occhio del pittore. Ecco lui ne fa diventare dei riferimenti e su questa materia a me è accaduto di subito di scriverne e mi ricordo di Tano Festa che esce dalla stanza in cui allora abitava vicino a Viale Mazzini e scende con la camera rossa tra le mani e sostenendo che voleva assolutamente che questo lo avessi io. Questo è stato il modo in cui per esempio la camera rossa mi è pervenuta. anche gli altri Tano Festa che ho sono doni di Tano Festa e non prodotti di galleria o di esplorazioni fatte per vedere che cosa stava facendo perché lui mi anticipava dicendo sto facendo questo questo è stata l'avventura vissuta con lui. Alcune cose di Schifano che non conoscevo le ho viste nella galleria di Annina Nosei in Prince Street downtown New York nel village diciamo mi ha interessato moltissimo un quadro che mi creava un grosso problema a causa delle dimensioni Lily Waters I fiori sull'acqua che aveva una vena meno giovane e avventurosa e più poetica e pensierosa di quanto avessi visto fino a quel momento nelle opere di Mario Schifano. Nei nomi e nelle circostanze che ho raccontato ho naturalmente saltato molti nomi importanti e molte circostanze importanti di rapporti con i protagonisti dell'arte di un lungo arco di vita per esempio non ho parlato di Giuseppa Fioroni per esempio non ho parlato di Ceroli per esempio non ho parlato di personaggi che sono stati amici presenti e partecipi di una vita in comune c'era il legame con altri scrittori che avevano rapporti forti con l'arte tipo il caso più grande e più importante per me è quello di Goffredo Parise che è stato amico fin da quando eravamo molto giovani e lo siamo rimasti sempre e che è sempre stato immerso attraverso Giuseppa Fioroni nel mondo dell'arte e che ha avuto un'importanza grandissima nel mantenermi legato all'evoluzione e ai cambiamenti di questo mondo c'era terra intorno a noi c'era terra fertile intorno a noi c'era terra che produceva delle cose splendide c'era la capacità di riconoscerle in tempo reale e c'era questa capacità del dono che non era una caratteristica non è mai stata precedentemente una caratteristica del mondo competitivo della creatività e non lo sarà certamente in futuro quello di cui sono testimone è un periodo in cui poteva capitare che uno degli artisti a un certo punto traesse da una sua cartellina un disegno di Sironi e te lo offrisse dicendo sai una cosa guarda guardalo secondo me ti piace molto e naturalmente visto non potevi che dire è certo che mi piace molto e la frase che seguiva è quella che non seguirebbe mai nei giorni in cui stiamo vivendo allora prendilo e diventa diventa di nuovo un un dono un regalo una cosa che hai ricevuto perché è bella perché esiste e perché ne hai parlato o ne parlerai o ne scriverai ma non è un do-des è soltanto un vivere insieme è un riconoscere che questo questo vivere insieme è un'importanza grandissima e che la vita è uno studio d'arte nel quale chi dipinge chi scrive chi fa spettacolo chi lascia insegno attraverso l'esplorazione saggistica ma insieme siamo i protagonisti di un'epoca a cui non vogliamo sottrarci né vogliamo e di cui non vogliamo gloriarci queste erano le caratteristiche strane di un'epoca di un'epoca che si